E' nei giorni di rincari per i carburanti che arrivano i cartelli con il prezzo medio nazionale. Come previsto dal decreto approvato dal governo Meloni a gennaio scorso, parte dal 1 agosto il nuovo obbligo per i gestori che d'ora in poi dovranno esporre il prezzo medio dei carburanti accanto a quello di vendita in ogni distributore di benzina. Un provvedimento al quale i benzinai si erano posti ma che il Tar del Lazio ha respinto e sul quale adesso interviene la Faibe Confesercenti. Siamo favorevoli al monitoraggio attento sul territorio, commenta il presidente provinciale Claudio Marraghini, ma diciamo no agli accanimenti sanzionatori. Ci tengo a precisare che non sono i gestori a speculare, il rischio, sottolinea poi, è che si realizzi quello che le associazioni di settore avevano denunciato nei mesi scorsi, ossia un allineamento verso l'alto del prezzo medio. Ci sono ancora poi sul territorio, anche provinciale, diversi impianti che non sono stati riforniti dai cartelli dalle compagnie e che l'introduzione di questo strumento coincide con il periodo feriale anche per i gestori che, in caso di chiusura del punto vendita e in assenza del servizio, non hanno obbligo di aggiornare i cartelli. Ribadiamo che nei distributori non è in atto alcuna speculazione, aggiunge Lucio Gori, responsabile della Confesercenti Arezzo. I gestori adottano infatti prezzi raccomandati dai fornitori, prezzi che stanno lievitando per effetto delle quotazioni internazionali e sulle autostrade anche per effetto delle royalties dovute alle società concessionarie delle tratte e per la mancata riforma. È dunque necessario, concludono, mettere mano con urgenza ad una riforma generale del settore che ripristini la piena legalità contrattuale e accompagni il processo di transizione energetica.